questa squadra come a salito burussi sguardingo nelle situazioni di pick and roll lo conosce bene gentile e dall'altra parte o il b liga dice amici però ci sono anch'io voi che prova l'esperienza e che esperienza da parte di vingas e con questo fanno due questa volta non arriva la rimonta schiacciata e urlo forse in omaggio a bruce lì che è di queste parti super palla di belinelli peccordi hacket si batte barroca di lina sulla palla vacante e poi a rimbalzo di due punti dell'uomo da perugia giochiamo cinici in questo momento della gara palla per biliga con coraggio l'urlo di paul biliga anche troppo anticipo forte davanti di biliga possibile triangolo pressione di bellinelli riposti gasol e biliga con testa regolarmente il tiro paul biliga oltre i suoi limiti perdendo i rimbalzi in attacco ma ti considero assolutamente un coach bravo ciniciarini per biliga all'esordio con schiacciata e maglia milano grazie a tutti 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 It's a moment, tonight is the night, we'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Larkin inside out. Shane Larkin pinned! Papa Liga pins it on the backboard! It's a moment, tonight is the night, we'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Ed li consegna il pallone, frotto al blocco di B-Liga alza la leope, e B-Liga lo chiude. But so we put our hands up like the ceiling can't hold us. B-Liga comes to set a screen. Alley-oop is creatively finished by Paul B-Liga. But so we put our hands up like the ceiling can't hold us. E' la mia gente dice E' la mia gente dice E' la mia gente dice C'è il sogno che gioca con Picarola e trova Ripetlucci E' il mago contro B-Liga che lo capta E' la mia gente dice E' la mia gente dice Alters, lays it, blocked by... Oh, Paul Beliga! We'll see that one again!